Tutti quanti i media, compreso questi diavoletti che appaiono improvvisamente, tutti quanti i media che gravitano intorno al sole, a Roma, che per noi è il sole, in queste ore stanno riempendo naturalmente i loro spacci con, ecco qua non mi si vede la capoccia, oggi mi sono fatto proprio un taglio definitivo, stiamo su una temperatura che non lo so dove andremo a finire, ogni anno è sempre più caldo, oggi veramente ieri temperature impossibili, dicevo si fa un gran parlare di Tammy Abram, il nuovo centravanti della Roma, il nuovo uomo anche mercato, perché si tratta dell'acquisto più costoso della nostra storia, quindi nei social naturalmente tutti subito se hai l'acquisto più costoso della nostra storia devi, qui ci sono i terremonti, cose che si spostano, devi per forza le cose segnare un sacco di gola, però vi ricordo che anche Patrick Schick è stato l'acquisto più costoso della nostra storia prima di Tammy Abram e non ha strusciato un pallone, quindi cioè in un mondo nel quale purtroppo c'è questa tendenza ormai a valutare tutto in funzione di quanto costa, costa tanto e quindi deve essere per forza buono, ma attenzione perché tante volte ci sono degli inganni, vedo degli inganni non so se vi ricordate per esempio nel film La Grande Bellezza, c'è una scena nella quale poi c'è un'attrice che indossa un vestito al premio Oscar spacciato per costosissimo che era stato fatto in realtà da un sarto italiano a sua insaputa per quattro soldi, questo è un po' un esempio, tante volte la realtà non è come sembra e infatti è una delle cose che a me preme anche raccontare nei miei libri, cioè a me mi interessa svelare i segreti che si nascondono dietro l'apparenza di persone o situazioni apparentemente integerrime, apparentemente opulente che invece nascondono tutta una serie di magagne, speriamo non sia questo il caso di Tami Abram, 1,96 m nato a Londra, 82 kg, Tami Abram che ha un fratello anche lui calciatore che si chiama Timmy, di padre nigeriano e di madre inglese, ha segnato veramente tanto questo giovane del 97 Tami Abram che ha giocato già nel Chelsea, nel Bristol, nello Swansea e nell'Aston Villa per poi ritornare al Chelsea, tanti gol segnati nel giro anche da nazionale maggiore, ha fatto tutta la trafira, il giocatore non mi sembrava assolutamente entusiasta di venire a Roma, cioè ha avuto bisogno di convincersi, forse non voleva lasciare semplicemente la Premier, tant'è vero che come sapete il Chelsea ha mantenuto il diritto di ricompra come si chiama oggi, però poi alla fine dietro tutti questi ragionamenti come sempre da commercialista, da avvocato, perché ormai il tifoso è diventato un commercialista, un avvocato, un broker, io poi vorrei vedere anche un attimino quello che è il discorso tecnico e tattico dell'inserimento di un giocatore in una squadra, Tami Abram, io me lo sono studiato bene su YouTube, giocatore come vi ho detto 1,96 per 82 kg, molto giovane del 97, ha delle caratteristiche da battaglia, cioè uno che torna, aiuta, è anche molto agile, è uno che viene a riprendere il pallone, non ho capito bene se fa salire bene la squadra, questo ancora non l'ho capito, però quello che vorrei dire è che io forse andrò controcorrente, ma al di là di tutti questi gol che ha segnato, che ha il suo attivo, io sinceramente Tami Abram ha un modo di caccia in porta che non mi piace per niente, ve lo dico subito, e non so se nel nostro campionato andrà bene questo suo modo di tirare, anche i rigori, tira, anche questo in un modo che non mi convince molto, speriamo di sbagliare, speriamo che Tami Abram si riveli il bomber capace di non far impiangere ed in gioco e chi prima di lui, naturalmente non si può esprimere un giudizio, il giocatore l'ha visto sul campo, io mi so fatto un'idea, ripeto, vedendolo su Youtube, mi auguro che Tami Abram entri nella Roma e segni tre gol a partita, mi avevo fatto un'idea, per esempio anche su Eldor Shomurodov, che ha visto giocare nel Genoa, che anche stasera, nell'amichevole vinta 5-0 contro i marocchini del Casablanca, ha fatto vedere di essere un giocatore molto interessante, ha sbloccato la partita con un bellissimo tocco, ma io per me Shomurodov è un giocatore di gran classe, che può solo migliorare giocando nella Roma, già nel Genoa si era messo molto in evidenza, mi aspetto molto anche da Shomurodov, per quanto riguarda Abram, io sospendo il giudizio, vi ho lasciato, penso, intendere un po' quello che penso, con molta sincerità, mi aspettavo qualcosa di meglio, mi aspettavo Icardi, mi aspettavo, non lo so, se mi diceva Gabriel Jesus del City, non lo so, il sogno mio era Cavani, ma non si poteva arrivare a Cavani, però una cosa la devo dire, che è un modo di lavorare un po' particolare, perché tu prendi un giocatore che è fondamentale nel gioco di questa squadra, ma pochi giorni dall'inizio della stagione, il 19 c'è la gara d'esodio in Conference League con il Trambo Sport in Turchia, in Trasferta, e poi il 22 subito allo Stadio Olimpico, l'esodio in campionato contro una squadra ossica come la Fiorentina, a pochi giorni dall'inizio del campionato, noi abbiamo anche tanti attaccanti, per carità, ne abbiamo visto proprio oggi che ne abbiamo tanti, però magari, sì, ma è vero che abbiamo Borgia Majoral, abbiamo Eldor Showmuro come primi punte, però magari, insomma, questo ragazzo, uno deve anche ambientarsi in attimo, deve anche la città, in pochi giorni, in poche settimane dovrà, cioè io non non è che penso che Abram giocherà contro la Fiorentina, ha bisogno di tempo, quindi secondo me è un modo di lavorare sbagliato, anche perché tra l'altro stiamo ancora trattando un altro giocatore, perché ci serve anche un centrocampista, a Murigno questi giocatori andavano dati prima, perché ha bisogno anche di interielli, oggi il test contro il Catablanca, come sapete è finito 5-0, non state troppo a enfatizzare la partita contro i Marocchini che sono stati una specie di sparring partner, sono partite che servono più che altro per mettere minuti nelle gambe, non date a queste partite alcuna importanza, hanno segnato il citato Eldor Showmuro, dove poi Gianluca Mancini con Manas accanto aggiunto, poi Mkhitaryan, Carles Perez e Majoral, che timbra, devo dire sempre il cartellino, Majoral fosse giocatore un po' sottovalutato, perché tecnicamente non è che sia proprio il massimo della vita, Carles Perez dopo il gol ha esultato in modo rabbioso, perché probabilmente non è contento dell'imminente cessione in Premier League, ma al momento della restituzione tra l'altro c'è stato un lungo colloquio con il mister Murigno, Perez è un giocatore che secondo me non ci serve, un giocatore che a volte ruba l'occhio, ma non si può giudicare un giocatore solo dallo spunto che ha nel breve il tiro anche molto efficace, ci stava la famosa canzone dei Gregori, il giocatore si vede dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia, si vede da tante cose, non si vede dal... perché sapete quanti non conosciuti io che facevano mille palleggi di rifila, poi però se li mettevi a fare una partita di calcio, ti facevano perdere la partita perché non correvano, non coprivano, non si impegnavano, non mettevano la gamba, essere giocatore di calcio, soprattutto nel calcio molto dinamico di oggi, è una cosa molto particolare, non è come una volta, magari nel calcio di una volta, Carles Perez poteva essere considerato anche un giocatore che ti faceva vincere le partite, ma questo è un giocatore che ti fa un gol ma te ne fa prendere due, però capito? Quindi credo proprio che partirà Roma in campo con il modulo 4-2-3-1 di Mourinho, con Rui Patricio, questa è la formazione iniziale, Kasov a destra, Vigna a sinistra, Mancini Smolli in i due centrali, Cristante Beretù e poi Nick Zaniolo, Mkhitaryan che ha giocato al posto di Lorenzo Pellegrini, quindi dietro la prima punta che è stata Eldor Shamurodov e a sinistra si è morto El Sharawi. La partita, la ripeto, non è stata a dare importanza a Casablanca, è stato un allenamento 5-0, va bene così, va bene anche così per creare un po' di entusiasmo, domani per uscire sui giornali la Roma batte e travolge il Rai a Casablanca 5-0, ma contro il Trasbonport cominceremo un po' a capire meglio. Oggi cosa si è visto? Si è vista la mano dell'allenatore. Murigno ha costruito una squadra molto aggressiva, com'è il suo gioco del resto? Murigno sappiamo benissimo come sono le sue squadre, lo abbiamo visto vincere il triplete in Italia, non certo con i colpi di tacco, squadra molto aggressiva, il carattere dell'allenatore è stato trasmesso ai giocatori, si va subito a cercare di pressare, di recuperare palla, un gioco anche abbastanza dispendioso nella fase di transizione, ma è un gioco ambizioso, è un gioco progettato per vincere le partite, anche 1-0 soffrendo il segno di denti, è quello che mi auguro che succederà proprio nelle prime partite di questa stagione. In Turchia non dobbiamo avere paura perché certamente il caldo mi auguro che scenda perché è un fattore anche quello, in questo tipo di partite. Molde, cioè Trasbon Sport, Molde è finita 3-3, ritorno 1-1, il calcio di rigore è passata la squadra di Gervinio, come per essere amsi 3 ex terribili del nostro campionato, però io faccio questo ragionamento, se una squadra come il Molde, che non è certamente né il Manchester City, né il Paris Saint Germain, né il Bayern Monaco, ha segnato 3 reti in trasferta a Trasbon Sport, questo mi lascia intendere e pensare che la difesa di Trasbon Sport non è che sia proprio... e tra l'altro l'abbiamo visto anche nella gara di ritorno in occasione del gol del pareggio proprio all'ultimo respiro, che è un po' uno strafalcione della difesa anche quello. Quindi attenzione a Gervinio, ad Amsi, ma non dobbiamo avere paura perché l'attacco della Roma mi appare e pare molto più forte della difesa turca. Turno importante, perché superare questo turno significa garantirsi la fase a gironi della Conference League che non è la Champions, però ragazzi nelle partite di calcio poi i tifosi ci vanno a vederle e se le vedono anche in televisione, i tifosi della Roma sono tanti e portano soldi nelle casse societarie, per cui anche gli incassi di Conference League poi alla fine non sono da buttare via, anche perché sono partite che promettono molti gol, spettacolo, anche vittorie, quindi il tifoso ci va volentieri a vedere la tua squadra vincere. Oggi è stata la prima partita con il pubblico, con tanto pubblico, insomma è stata tutta un'altra cosa, proprio l'occhio che si riempie di questi colori, di queste voci, di queste persone, quindi dopo tantissimo tempo, causa Covid, rivedere gente allo stadio, è stato emozionante, penso per tutti, speriamo che col proseguio della campagna vaccinale in atto si possa veramente ridurre a minimi termini, io devo fare la seconda dose il 18-19 agosto, devo fare il Moderna, non vedo l'ora che venga quel giorno perché mi sentirò molto più sicuro, molto più tranquillo, anche se il Green Pass viene rilasciato già dopo la prima dose, io sono per il vaccino, poi c'è chi non è per il vaccino, ma finché il vaccino non è obbligatorio, io non vi dirò mai di vaccinare, cioè rispetto la vostra libertà, se no il governo non si prende la responsabilità di mettere l'obbligatoria del vaccino non vi si può dire niente, io la vedo così, il vaccino se mi dite è obbligatorio perché la scienza dice che bisogna per forza vaccinarsi, allora io vi dico vaccinate, ma finché non è obbligatorio non vi posso dire niente, io ritengo che vaccinandomi avrò pochissime possibilità di ammalarmi e veramente nulle quasi di arrivare in ospedale in condizioni gravi, al massimo se proprio incontrerò il Covid mi cureranno a casa, io mi vaccino con questo ospito, speriamo di fare bene, il Covid ci ha veramente devastato l'esistenza in quest'anno e mezzo, non ricordo più nemmeno un anno e mezzo, un anno e mezzo disastroso per l'economia, disastroso per i rapporti sociali, veramente alcune categorie che si sono ritrovate chiuse in casa davanti a un computer, completamente isolate dal loro contesto abituale, quindi è stata una prova veramente durissima e anche il calcio ha pagato un prezzo molto alto anche in termini economici, che chiaramente non essendoci pubblico allo stadio è chiaro che gli incassi sono crollati, poi quei soldi che entrano al botteghino sono poi soldi proprio cash, con tanti freschi che servono tantissimo a quelle che sono rispetti di gestione di tutti i personaggi che gravitano e lavorano per la società, quindi sono importanti i soldi, tante volte ti dice, ma in fondo una società di calcio gestisce capitali enormi, quindi poi alla fine l'incasso serve perché sono soldi cash, ripeto, quindi sono soldi veramente che oliano il motore proprio di una società, soprattutto quando questa società è una grande società e quindi comunque ha tanti dipendenti, tante spese eccetera eccetera, quindi Trasbo Sport è il nostro primo avversario il giorno 19, mentre il 26 il ritorno allo stadio olimpico, il Trasbo Sport si dovrebbe schierare con il 4-3-3 con Kakir in porta, Hasan Edgar de Sousa e Bruno Perez in difesa, Amsic la vecchia conoscenza, la bandiera del Napoli, Marek Amsic, giocatore che non mi sarebbe neanche dispiaciuto vedere dalla Roma tra le altre cose, a destra Bakasetas a sinistra, Özdemir al centro, i tre offensivi sono a destra un'altra nostra vecchia conoscenza, Gervinio, Gervais, Gervinio, giocatore funambolico, velocissimo, imprendibile, giocatore entusiasmante, quando c'ha voglia di giocare è una gioia per gli occhi, speriamo che non sia il caso il 19 di agosto, la prima punta sarà Dianini, mentre a sinistra agirà Nuacaene, non conosco assolutamente, quindi non vi so dire nulla di questo giocatore, attenzione ragazzi non sottovalutiamo queste tordio, ma Mourinho non è un uomo che cadrà in questa, che scivolerà in questa trappola di sottovalutare l'avversario perché capisce che partire con il piede giusto in una piazza come Roma è molto importante, perché è molto importante? Vediamo se ci arrivate, perché la stampa subito ti pompa, no? C'è il vento in poppa, la Roma batte il Tarnospore, ipoteca, la qualificazione, la fase a Gironi, capite? Se per il contatto subito cominciano è perché quella è una pippa, è perché Vigna non è arrivato, è perché non abbiamo il centravanti, è perché non abbiamo compato il centrocampista, è perché Sciaga non è arrivato, lui Patrice ha una pippa, eccetera, eccetera, quindi attenzione perché se si prende quel binario lì, son cazzi, son cazzi ragazzi, allora ripeto, 19 agosto, ora è 19.30, si gioca a Trebisonda, al Send Gunespor Complexi Ieni Stadium, allo stadio di Trebisonda, quindi il tossaggio. Il 26 agosto, ore 19, ritorna allo stadio olimpico, il giorno 27, il giorno dopo, c'è già il sorteggio, la fase a Gironi della Conference League che io dico a questo punto, non la vince sta Conference League, no? Siamo tra i favoriti, questi sono gli impegni, che voglio fare? Vincio lo Scudetto, la Coppa Italia, se ci impegniamo, la Coppa Italia ha poche partite, la Conference è molto più interessante perché, sì, è vero che è il torneo delle settime di ogni campionato, però è un torneo che era anche lungo, interessante, c'è una fase a Gironi, in Bacheca, non sappiamo questa Conference League che fa vent'anni che importanza avrà, no? In Bacheca potremmo essere, nel Palmarès, la prima squadra a vincere questo nuovo trofeo. Impegniamoci perché potrebbe essere un'occasione anche poi di valorizzare i nostri giocatori, soprattutto i più giovani, ne abbiamo tanti che sono interessanti, cioè un giocatore come Darboe, per dire, no? Ma anche Zaleschi, il giocatore interessantissimo, che però va inserito con gradualità. Questi giocatori avranno una vetrina, avranno una vetrina internazionale, cioè come, capito, farsi vedere, no? Ecco, io c'ho una vetrina, presento un libro, Insania, di Fernando Bastoli e Silvia Fasce, è una vetrina, è una possibilità, è un libro di racconti, racconti inquietanti, c'è una vetrina, c'è una quarta ricopertina, ci sono dieci racconti, è la stessa cosa nel calcio per la Conference League, faremo vedere a tutta Europa, a Darboe, faremo vedere a tutta Europa i nostri giovani, i nostri giocatori, lo stesso Boggia Maioralla, che è un giocatore ancora tutto sommato poco conosciuto a livello europeo, metteremo ancora in vetrina il nostro gioiello che è Zaniolo. Partiamo con la testa giusta, perché potrebbero essere interessanti i risvolti della Conference League, secondo me. Quindi, ripeto, tornando al discorso Tammy Abram, allora, io ripeto, il giocatore non era molto convinto, allora, ritorniamo indietro un attimo, riavvolgiamo il nastro. Ed in gioco, Murigno, vista la situazione dei centravanti, a un certo punto ha detto, sai che c'è? Come si dice a Roma, Peppa per Peppa, me tengo Peppa mia. Cioè, visto che qua non si riesce a arrivare a giocare, teniamo Zego e non se ne valla più. Tanto abbiamo Zagnolo a destra, Mighitaria e Cavolivari e Scialawi, eccetera eccetera, Boggia Maioralla e Somuro, ci teniamo Zego, male che valla, farà anche un po' da chioccia. A un certo punto, Zego se n'è voluto andare. Se n'è voluto andare perché? Perché probabilmente anche le sirene della Champions hanno influito tanto nella sua scelta, perché una cosa giocare a 35 anni sono gli ultimi scampoli di carriera, scampoli no, ma gli ultimi campionati, giocare in Champions League è chiaro che è tutta un'altra cosa rispetto a giocare in Conference League, questo glielo passo. Poi 4,5 milioni di euro pagati all'Inter all'anno e a un giocatore di 35 anni, capisco benissimo che è un diavoletto che si inchinua nella capoccia di un giocatore che dice, sai che c'è? Io a Roma sto bene, però 4,5 milioni di euro, ho due o tre figli, quello che ho e cavoli vari, Milano è una città importante, l'Inter pure, e così fai la cazzata e va a Milano. A questo punto Murino si incazza, perché è storia che Murino si è incazzato, cioè credo che sta cominciando la stagione, a tre giorni dall'inizio della stagione tu mi decidi di andartene, vabbè. Poi c'è stata anche una querella sull'ultimo stipendio di luglio che doveva essere pagato, ma lui cosa vuole essere pagato? Le amichevoli, mannaggia la miseria, lui diceva, ma io a disposizione ho fatto il mio lavoro, sia il mio lavoro con le amichevoli estive, vabbè dai, e pia di sti soldi. Stiamo parlando di 400 mila euro, vabbè, e pia di sti soldi. Allora, c'era in fretta la necessità di trovare un bomber. Io, a me quello che mi dà speranza è che Murino conosce molto bene, come sapete, per averlo avuto, averlo visto nelle giovanili Tammy Abram, quindi conosce, ma ripeto, le potenzialità le vediamo tutti, ripeto, basta andare su YouTube, un giocatore molto totale, anche a livello fisico, quindi io mi fido di Murino, però ripeto, questo arriva qua, il campionato italiano non è il campionato inglese, è un campionato molto diverso, molto più difensivo, i difensori, non lo so, non è che giocano a viso aperto come giocano in Inghilterra, quindi speriamo bene, perché non voglio assolutamente mettere le mani avanti, mi auguro, ripeto, per il bene di tutti, per il bene della Roma, che Tammy Abram faccia tre gol a partita dalle sue esordie, per carità, nessuno vuole che portare sfiga, diciamo, però io Schick me lo ricordo bene, quando è arrivato Schick, l'acquisto più costoso della storia della Roma, era un giocatore bello a vedersi, giovane, tecnico, nella Sampdoria, come entrava, baciava il pallone, il pallone andava all'incrocio dei pari, ve lo ricorderete tutti, eravamo tutti convinti, grandissimo campione, ma io vado qua, hanno preso una palla, quindi, cosa vuol dire questo? Che è importante anche inserirsi bene nell'ambiente, tra l'altro Schick ha confermato agli ultimi europei, tutto sto valore, tra l'altro segnando il più bel gol dell'europeo, con gol da centrocampo, ma a parte quello, è andata così, raga, evidentemente ci sono stati anche degli errori nella gestione del giovane, dell'uomo, del ragazzo, dello Schick a livello umano, non so, oppure, a me quello che mi hanno detto è che ha un carattere che si deprime facilmente se viene criticato, ci sono questi profili, forse ero pure io così quando giochicchiavo a pallone, ci sono questi profili, c'è chi invece ha la capacità di mettersi tutto da parte, di farsi scivolare addosso le critiche, ma Schick non era uno di questi e quando anche in allenamento veniva contestato e criticato, perché magari la domenica aveva sbagliato qualche gol, accusava molto il colpo. I calciatori inglesi, storicamente, non è che sono sempre andati bene in Italia, ce ne sono alcuni che sono andati anche molto bene, non so, mi ricordo per esempio Trevor Frenzi, se ve lo ricorderete, il famoso centravanti anche del Nottingham Forest, che andò molto bene nella Sampdoria, mi ricordo per esempio Gascogna che aveva mezzo matto, ma si è visto che era un grande giocatore, mi ricordo anche tante belle pippe, Lion Brady, ma quello che è islandese, tante belle pippe sono arrivate, vedete tutti i blissett al Milan, fu un fiasco camoroso, ma comunque non è che si può generalizzare, diciamo, io ripeto, il calcio inglese e il calcio italiano sono molto diversi, sono proprio, credo che si sia visto anche in occasione della finale Italia-Inghilterra che ha gli ultimi campionati europei, è proprio un altro modo di intendere, loro giocano a viso aperto, proprio sempre all'attacco, il calcio italiano è molto più tattico, speriamo bene, non so quanto tempo ci metterà, adesso Mourinho è a inserirlo, il ragazzo chiaramente era in panchina ieri nella partita del Chelsea, quindi fisicamente è pronto, ovviamente non l'hanno fatto entrare, perché non è che puoi prendere un infortunio in un momento del genere, il ragazzo è pronto a livello fisico, a livello mentale, non come sembra, perché non ci voleva venire a Roma, quindi è stato convinto, piano piano, va bene così, perché tutto sommato lui ha pensato, ma il Chelsea può sempre ricomprarmi, da un buon indimento, quindi magari ritornerò, vabbè, vediamo con quale sentiment, come si dice, va di moda questa parola, con quale sentiment il ragazzo arriva alla Roma, spero che ti renda subito conto di che cosa significa portare la Maria della Roma, perché prima lo capisci e più possibilità hai di inserirti, cioè Roma è la città più importante del mondo ragazzi, non ci inventiamo cazzate, questo è, che poi sia una città piena di problemi, quando arrivi a Roma devi essere fiero di vestire questa maglia, perché rappresenta un popolo, è un popolo che da sempre ha una fede, questa fede si chiama appunto a essere Roma e quindi le partite della Roma per noi sono una cosa sempre molto importante, molto molto importante, il giocatore prima lo capisce e prima entra, diciamo, nelle corde giuste per dare il suo contributo, perché, ripeto, il tipo della Roma non vuole Maradona e Pelè, vuole gente che dà il fritto, vuole gente che studa la maglietta, vuole gente che mette la gamba, vuole gente che si impegna e ci sta con la testa e che non se ne va a fare i giri in discoteca la notte, perché anche fisicamente non tutti te lo possono permettere e vogliamo vedere un gruppo coeso, che rema tutto nella stessa direzione, col massimo impegno e credo che José Mourinho sia l'uomo veramente adatto e giusto per seguire questo obiettivo, come fu adatto e giusto Fabio Capello, altro seggente di ferro, che non è un caso che con lui che si è vinto l'ultimo scudetto, può essere passato un po' troppo tempo, perché passati vent'anni sarebbe anche ora, non dico di vincere lo scudetto, ma come dice Mourinho, di prendere anche qualche titolo in più, perché proviamo, proviamo anche dalla Confereza Liga, dalla Coppa Italia, vediamo un po', benvenuto Tammy Abram, spero che ci farai divertire con i tuoi gol, che ci farai esultare e spero anche di essermi sbagliato sul giudizio tecnico che sto dando su di te, ma ripeto, io dico quello che penso, le prime immagini non mi convincono molto, un giocatore che arriva alla boggia Maioralla, arriva sul pallone tante volte, su palle buttate in mezzo, arriva prima degli altri, ma io vorrei vedere qualche cosa di più, insomma, magari, chissà, ce lo farà vedere proprio con le prossime partite con la maglia giallorossa. Buonanotte a tutti e buona sala a tutti, penso che staremo toccando i 50 gradi, è una cosa incredibile.